Signor Presidente della Banca Centrale Europea, signora Presidente della LUIS, signori Ministri, signori Ambasciatori, signor Governatore della Banca d'Italia, gentili Segretari dei Sindacati, cari colleghi, cari studenti e gentili ospiti. Prima di iniziare una breve introduzione, devo dare messaggio da parte del Presidente della Repubblica, che non ha potuto essere presente oggi, però ho voluto mandarci il seguente messaggio. Vi ringrazio per l'invito a partecipare alla cerimonia di conferimento della Laura Honoris Causa al Professor Mario Draghi. Sarò purtroppo quel giorno assente da Roma, ma desidero ugualmente far giungere a voi tutti il mio cordiale saluto e compiacimento. Mario Draghi è una personalità di spicco nella vita pubblica italiana e internazionale, che ha saputo congiungere preparazione e finezza culturale, alta capacità professionale ed esemplare senso della dedizione nell'interesse generale italiano ed europeo. Nella sua attuale fondamentale funzione di Presidente della BCE, è un punto di riferimento sicuro per una nuova prospettiva di avanzamento anche politico del processo di integrazione e di rilancio degli ideali europeistici. A lui il mio più vivo augurio, consentimento di antica stima ed amicizia. Signori, l'evento centrale della cerimonia di oggi è il conferimento della Laura Honoris Causa al Presidente della BCE, Mario Draghi. Un conferimento che abbiamo proposto nella consapevolezza che Mario Draghi sta contribuendo in modo essenziale alla costruzione delle istituzioni europee stabili, entro le quali tutti i Paesi membri possano trovare nuove strategie di crescita, uscendo dagli effetti di una crisi finanziaria la più grave del dopoguerra. Credo che ognuno di noi, individui e istituzioni, debba assumersi responsabilmente il carico di trovare nel proprio campo soluzioni che contribuiscano all'uscita di questa situazione. Ciascuno nelle proprie aree di competenza e nei propri limiti e nei propri ruoli, nell'ottica della modernizzazione e del rilancio del nostro Paese. Anche l'Università ha questo compito e noi ne siamo pienamente consapevoli e di questo brevemente parlerò. Le università italiane si trovano ad operare in un contesto sempre più difficile. Uno degli effetti della crisi e della crescente disoccupazione tra i laureati è stata la diminuzione progressiva delle iscrizioni alle università del nostro Paese, accompagnata dalla crescente convinzione in molte famiglie che la laurea non sia più uno strumento sufficiente per un buon lavoro e per il miglioramento delle condizioni sociali. Così una parte dei giovani, soprattutto nelle fasce sociali meno abbienti, è spinta a non tentare l'avventura universitaria, mentre altri cercano fuori casa le università che sono più interessanti e promettenti per il loro futuro e sempre più spesso le cercano fuori dai confini nazionali. Questo dato che voi vedete è infatti il dato della serie storica degli immatricolati, da cui si nota che siamo tornati al 2000. Dopo 13 anni il numero di immatricolati è uguale a quello che avevamo appunto 13 anni fa. E lo stesso vale per la relazione che c'è tra l'andamento dell'economia e del PIL e il numero di persone che si iscrivono all'università. In questo modo abbiamo un grosso problema di disaffezione, ma d'altra parte invece per quello che riguarda la mobilità, una crescente mobilità degli studenti sia nel territorio nazionale, dal sud al nord prevalentemente, che verso l'estero. Un fenomeno molto evidente, soprattutto per quanto riguarda le lauree magistrali, lo vediamo noi anche con le nostre. Dopo un primo triennio infatti i giovani hanno acquisito le competenze necessarie per decidere come perfezionare la loro formazione e spesso se ne vanno dall'università originaria e cercano nuove soluzioni per la loro vita. Quindi disaffezione da un lato, mobilità dall'altro. Il primo è un fatto pericoloso, il secondo è un dato molto positivo a mio parere, ma entrambi sono fatti che generano per tutto il sistema universitario italiano, una sfida estremamente importante che ha come posta in gioco la capacità dell'università di rispondere efficacemente ai cambiamenti delle professioni e ridivenire attrattive nei confronti dei giovani, ridivenire attrattive nei loro confronti. La LUIS. Io penso che per affrontare questa sfida che c'è molto chiara, noi abbiamo operato già da sei anni e abbiamo operato in cinque differenti ambiti, una governance snella ed efficace, la individuazione di indirizzi strategici di lungo periodo che abbiamo condiviso, la creazione di aree di leadership scientifica, progressiva ma che va avanti in un modo serio, un disegno degli insegnamenti basato su una conoscenza approfondita delle professioni e della loro evoluzione, e infine una cura particolare per accompagnare lo studente nel suo lavoro anche dopo il conseguimento della laurea. Questo percorso di rinnovamento è iniziato sei anni fa. La fotografia di allora era quella di una buona università, la LUIS era una buona università capace di attrarre i giovani dal centro e dal sud dell'Italia e da dare a loro una solida formazione. Molti dei laureati che sono usciti della nostra università, infatti, ricoprono importanti posizioni di responsabilità a livello nazionale e internazionale, come si vede. Oggi il nostro profilo è quello di un'istituzione accademica aperta, che si inserisce progressivamente nella competizione internazionale, che sta attraendo sempre di più giovani da largo raggio. Qui avete i dati di studenti che arrivano da noi, da varia parte dell'intero globo. Le nostre prospettive future. Come fare ad aumentare la nostra capacità attrattiva? La dimensione della nostra università è medio piccola e non riteniamo utile farla crescere eccessivamente per non perdere quello che è sempre stato un riconosciuto punto di forza, la particolare cura per lo studente. Perciò la strada per migliorare la nostra attrattività è quella della qualità e della specializzazione dell'offerta formativa. Scalare le graduatorie, i ranking internazionali e raggiungere progressivamente posizioni di alta reputazione in un numero di aree scientifiche e professionali che sarà necessariamente limitato. Ma tale da renderci in quelle aree, io spero, in un futuro, un punto di riferimento. Il primo elemento per questo obiettivo è stato ed è il reclutamento di un corpo accademico di alto livello. La politica che abbiamo posto in atto ha portato il corpo docente di ruolo a crescere del 43% negli ultimi 5 anni, una cifra consistente sia attraverso il reclutamento nel job market internazionale che con trasferimenti da altre università di ricercatori e professori con un elevato potenziale di ricerca riconosciuto a livello internazionale. In particolare abbiamo offerto e offriamo opportunità di rientro a giovani studiosi italiani in carriera che oggi operano in grandi università europee e americane. L'effetto di questa strategia si è visto in molti segnali positivi. Nonostante la crisi che sta incidendo in modo significativo anche su fasce medie della società finora non particolarmente coinvolte, nonostante il calo dell'iscrizione in tutta Italia, la LUIS ha mantenuto le sue quote e registrato un netto aumento delle domande di emissione ai corsi, fino al 60% nell'area di Politics, Philosophy and Economics del Dipartimento di Scienze Politiche. Oggi i dipartimenti offrono agli studenti la possibilità di compiere l'intero cursus formativo in inglese e a tutti i livelli, lauree triennali, magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati. Abbiamo 20 corsi che sono fatti in inglese, in molti casi sotto forma di doppio grado con altre università straniere di cui siamo partner. Ma dal solo insegnamento in lingua inglese ovviamente non è sufficiente. Ciò che conta è l'individuazione di contenuti attrattivi per un pubblico internazionale di studenti, nelle aree scientifiche e professionali in cui abbiamo punti di forza o in cui li vogliamo sviluppare nel prossimo futuro. Buona parte di questi contenuti vengono veicolati oggi attraverso le schools che svolgono il compito di ponte tra il mondo della ricerca e quello delle professioni. Abbiamo pensato perciò di affiancare alla Business School, che già opera efficacemente da molti anni, nuove scuole. Un esempio in questa direzione è la School of Government, che si è dimostrata in pochi anni una storia di successo. In contotendenza con i dati nazionali, che vedono una riduzione degli iscritti nel settore delle scienze politiche, le school hanno avuto, questa scuola ha avuto un'importante crescita perché si era posto un obiettivo primario per il nostro Paese, la formazione di civil servant, di una classe dirigente capace di rispondere ai bisogni del nostro Paese a livello europeo. Stiamo affiancando a questa scuola una nuova branch dedicata alla European Economic Governance, oggi in fondo è un po' anche questo l'argomento di cui stiamo parlando, in modo da rinforzare il ruolo di riferimento nel contesto italiano che la prima ha già guadagnato. Intendiamo proseguire su questa strada, varando anche una school of law nel più breve tempo possibile e più in generale aumentando la nostra capacità di costituire un centro di attrazione nel dibattito politico-istituzionale, un punto di incontro delle idee e di raccordo tra la politica economica e il sistema industriale. Ultimo aspetto della nostra attività è sostanzialmente lo stile formativo. La costruzione di queste iniziative non ci ha fatto dimenticare i nostri punti di forza tradizionali, che gli studenti conoscono bene. Lo stile formativo della LUIS, tradizionalmente reputata per la capacità di seguire la vita dello studente universitario, aiutandoli in ogni fase, dalla scelta del corso di laurea all'indirizzo nel mondo del lavoro. Questo stile è stato ulteriormente sviluppato e rafforzato, grazie soprattutto a uno straordinario impegno della Direzione Generale dell'Amministrazione. E' così stato rinnovato e rafforzato il programma di orientamento, con iniziative nel territorio nazionale e all'estero, ma passando dalla pura presentazione dell'offerta formativa a LUIS a un diverso paradigma, più ampio e culturalmente aperto. Nell'ultima nostra iniziativa, la Summer School, prepariamo gli studenti a una scelta consapevole, a prescindere dal fatto che siano direttamente interessati ai campi del sapere che noi offriamo. Diamo loro un'apertura totale senza richiederne nulla in contraccambio immediato. Non meno impegno è stato speso per altre attività, come quelle degli stage, e voglio ricordare solo una cosa che ritengo importante, perché forse unica, il programma di mentoring sviluppato insieme all'associazione dei laureati LUIS. I laureandi hanno l'opportunità di entrare in contatto con professionisti affermati, ex alunni della LUIS, i mentor, che guidano i loro colleghi più giovani nella scelta dei loro indirizzi e nel raggiungimento degli obiettivi. Vorrei concludere. Nonostante la crisi, che rende onoroso per il ceto medio sostenere i costi di un percorso formativo lontano dalla famiglia di origine, la LUIS resta un polo d'attrazione e anzi ha aumentato il livello e la qualità della sua capacità attrattiva. Questo ci conferma che la strategia che stiamo attuando è efficace e va ulteriormente rafforzata. Siamo nel mezzo di un cammino che richiederà ancora tempo ed impegno. Abbiamo scelto di entrare nella competizione delle istituzioni culturali e di ricerca che operano a livello globale, pur essendo piccoli, e siamo consapevoli che questo richiede una trasformazione profonda del nostro modo di operare. C'è, come abbiamo visto, un problema di governance, di capacità strategica, di leadership scientifica, di sofisticata conoscenza dei mercati e delle professioni. Ma ciò va realizzato in uno spirito genuinamente pluralista, aperto alle idee degli altri, che ci permetta di divenire un punto di riferimento culturale nel nostro Paese e un elemento di riferimento nella formazione della nuova generazione dei giovani. Quei giovani che costituiranno il tessuto fondamentale della società negli anni a venire e che noi vogliamo non solo professionalmente competenti, ma anche cittadini responsabili e moralmente solidi. Concludo. Non tocca a me illustrare le motivazioni della Laura onoris causa, che si faranno fra qualche minuto. Vorrei soltanto ricordare un elemento particolarmente significativo per noi, Luis Guido Carli. Fu Guido Carli, quando era ministro del Tesoro nei primi anni 90, a condurre, affiancato da Mario Draghi, allora direttore generale del Tesoro, se mi sbaglio vero corretto, il complesso lavoro per giungere al Trattato di Maastricht, una pietra miliara sulla strada dell'Unione Monetaria e di una maggiore integrazione politica europea. Entrambi erano accomunati da un forte spirito europeistico. E cito una frase di Draghi medesimo su Carli, l'Italia di Carli, fin dal primo dopoguerra, fu un'Italia europea. È logico che gli abbia coronato la sua carriera politica, dovrei dire la sua carriera tout court, con la firma del Trattato di Maastricht. Se noi siamo quasi naturaliter, cittadini dell'Europa e del mondo, Carli lo fu per scelta, in un momento in cui puntare le proprie carte sull'apertura economica ideale dell'Italia, presentava un forte elemento di rischio. Bene, prima di dare inizio alla cerimonia di conferimento della laurea onoris causa Mario Draghi, vi offriamo un breve intermezzo in cui la piccola orchestra Lumière accompagnerà con una musica originale un brano tratto dal film One Week di Buster Keaton e Edward Klein. Abbiamo pensato di alleggerire con un pizzico di spirito goliardico la serietà e la solennità della cerimonia che sta per iniziare e darvi l'occasione di sorridere della situazione descritta nel breve filmato che segue. Una situazione che in qualche modo simboleggia l'andamento della costruzione delle istituzioni europee, ironicamente, negli ultimi tempi e ci fa capire quanto sia importante la presenza di alcuni mani ferme, come quella di Mario Draghi, che possano guidare questa costruzione verso una configurazione istituzionale stabile in modo da garantire la ripresa della crescita e della prosperità del nostro Paese nella comunità europea. Grazie. Inizia adesso l'intermezzo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.